In studio, Veronica Puglisi. Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione di MTG e lutto cittadino a Palermo per la morte di frate il Viaggio Conte. Aveva 59 anni, missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti a Palermo. I funerali saranno celebrati martedì 17 alle 10.30 in cattedrale. Alle 16 di oggi verrà aperta la Camera Ardente in via De Collati. Ma sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. È morto l'uomo che con la croce sulla spalla e il rosario dell'acqua santa percorreva il mondo a piedi. Lui era una finestra sul mondo. Frate il Viaggio Conte, dopo aver lottato contro una malattia, ha salutato per sempre tutti con il suo Vi voglio bene, vi voglio tanto bene. Ci lascia il missionario laico che si è spogliato di tutto per dare ai poveri agli ultimi un tetto, un piatto di pasta e tanta dignità. La sua missione di speranza e carità era un mondo di pace per più di 1500 famiglie. Nonostante le grandi difficoltà di un tessuto sociale sempre più aggrovigliato nelle maglie della povertà, della disoccupazione e della rabbia, Frate il Viaggio Conte ha reso migliore il mondo degli ultimi. I fratelli accolti, aiutati, che tu risollivi, che gli dai l'acqua da mangiare, li accogli, sono loro il simbolo di rinascita, rappresentano loro, che aiutati, accolti, rinascono a vita nuova. Viaggio Conte è nato in una famiglia benestante, lascia a 26 anni tutto ciò che possiede per portare sulle spalle la croce, una decisione estrema che lo ha portato a piedi in tutta Italia, a mezzo Europa, in Scozia e fino al Marocco. Ha raccontato del suo pellegrinaggio del cuore, attraversando lo stretto di Gibilterra, raggiungendo a piedi il Marocco, dove ha offerto il suo cibo a chiunque incontrasse nel suo cammino. Bambini, poveri, malati di mente, anziani. La sua lotta era contro il materialismo e il consumismo, in una società che non sa rispondere ai veri bisogni, soprattutto ai bisogni dell'umanità. Viaggio Conte, nel 2014, costretto su una segna rotella a causa di una vertebra schiacciata, riprese a camminare dopo un'immersione nelle acque di Lourdes. Papa Francesco andò da lui a Palermo, mangiò la sua mensa con i 160 ultimi, seduto accanto al missionario e a un disabile. Un film di Pasquale Scimecca racconta la vita di Biagio Conte, definito uno dei pochi uomini giusti di questo pianeta. Mi sono deciso di non toccare più soldi in vita mia. Puoi venire con me? Vive come un barbone sotto i vortici. Sì, vive come un barbone sotto i vortici, con un cane. Mi sono venuto a trovare per farti una domanda. Alla fine l'hai trovato Dio. Ai suoi genitori, che dovessero assecondare la sua scelta, si rivolse dicendo loro di avere coraggio, di non perdere la speranza, che il buon Dio vi ha donato un figlio nato per contribuire al bene di questa malata società, aiutando i poveri e tutti quelli che hanno perso la strada rimettendoli nella giusta via. Il suo messaggio continuerà a vivere nella missione e nel mondo. È stato proclamato il lutto cittadino dal sindaco di Palermo, Roberto Ragala, comandiere a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali e alle scuole, fino al giorno dei funerali. Oggi pomeriggio la Camera è ardente e mi ha decollati. La Salma resterà fino a lunedì nella missione Speranza e Carità. Si attendono circa 10.000 fedeli nel giorno dei funerali, che saranno celebrati martedì 17 alle 10.30 in Cattedrale a Palermo. E il cordoglio per la grande perdita di fratel Biagio Conte arriva da tutta Italia, da Mattarella fino alle istituzioni civili e militari siciliane. Stamattina nella sede della missione fondata nel 1991, sono arrivati in tanti per omaggiare il missionario laico. Fratel Biagio Conte se ne è andato a 59 anni lasciando alle istituzioni un'eredità per rendersi cura degli ultimi. Le sue opere, i suoi valori dovranno essere ora tramandati perché il fondatore ha ceduto il testimone di una battaglia sociale e culturale alla quale nessuno può adesso sottrarsi. Io quello che ricordo con più gioia è quando andavo su nel nord Italia dovevo riconciliarmi con la mia famiglia e capitò che andammo su con fratel Biagio, non era mai andato in aereo e ho avuto la forza grazie a un momento di preghiera di due giorni a Schio dove c'è Bachita per riconciliarmi con la mia famiglia. Quindi è stato il tramite per il perdono con la mia famiglia. Il capo dello Stato Sergio Mattarella piange fratel Biagio Conte riferendo che il suo ricordo sia concreto, il rimpianto e la riconoscenza nei confronti di Biagio Conte vanno espressi consolidando e sviluppando anche in futuro le sue iniziative affinché il ricordo e la sua figura sia concreto e reale così come è stato il suo esempio. Oggi ha commentato l'arcivescovo di Palermo, Monsignore Corrado Lorefic, il Signore chiama la nostra Chiesa che è in Palermo, chiama ciascuno di noi a raccogliere il testimone di un esempio così fulgido. Le istituzioni stamattina sono andate nella sede della missione per rendere omaggio a fratel Biagio. Porto con me le ultime parole, lavorare insieme per i poveri e questo sarà fatto sicuramente da me, dal sindaco, dalle istituzioni, non lo dimenticheremo. Lavoreremo perché non venga dimenticato. I valori che ci tramanda e ci tralascia sono valori per noi rinunziabili. Credo che il silenzio e la sobrietà debbano accompagnare questi giorni nel ricordo ma soprattutto nella continuità di un impegno. Io sono venuta domenica, già l'avevo visto molto improvato, insomma stava malissimo, quindi è chiaro che siamo tutti molto solidali e seguiremo anche come prefettura insieme, come ha detto il Presidente della Regione e il Sindaco, affinché la missione Speranza e Carità continui a vivere e continui a vivere nel messaggio di Fra Biagio. Ci ha contagiato l'amore, l'amore per gli ultimi, quello che noi chiamiamo diritti, lui lo chiamava amore e lui era sempre oltre, era oltre, oltre il presente. Lui adesso è saleno, lui sta bene, sta benissimo. Siamo noi che dobbiamo rispondere alla domanda come continuiamo a rendere eterno quel suo amore per la città e quel suo amore per gli ultimi. Voltiamo adesso pagina a Palermo. Un operaio è precipitato da una finestra a secondo piano di un istituto di credito presso il quale stava eseguendo dei lavori. Tragedia in pieno centro a Palermo questa mattina intorno alle 7. Un sessantenne operaio di una ditta che effettua le manutenzioni di tutta la parte elettrica, compresi PC e condizionatori per un istituto di credito, è morto dopo essere precipitato dal secondo piano di una delle sedi della banca, dalla finestra dell'immobile che si trova tra le vie Mariano Stabile e Ruggero Settimo. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un gesto volontario. Gli agenti della scientifica stanno effettuando i rilievi. La vittima, che al momento della caduta indossava la tuta blu da lavoro, è morta sul colpo nell'impatto violentissimo contro il marciapiede. Un incidente mortale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 117 in territorio di Mazzarino. Deceduta una donna, quattro feriti sono gravi. Incidente mortale lungo la strada statale 117 in territorio di Mazzarino. in provincia di Caltanissetta. Deceduta una donna, di cui ancora non si conoscono le generalità. Ancora è in corso i rilievi da parte dei carabinieri della locale Compagnia. Quattro sono i feriti gravi. Sono stati trasferiti d'urgenza nei vicini ospedali. Due a Caltagirone. Un ferito, invece, è stato trasferito al Vittorio Emanuele di Gela. Un altro, invece, al Sant'Elia di Caltanissetta. Quest'ultimo, giudicate gravissime le sue condizioni di salute, è stato trasferito d'urgenza mediante l'ausilio di un elisoccorso. Per tutta la mattinata e ancora ora si registrano rallentamenti all'arteria. Temporaneamente chiusa, infatti, l'arteria centrale sicula la strada statale 117 bis. Il traffico è deviato in strade limitrofe. Ancora è in corso di ricostruzione anche l'esatta dinamica dell'impatto che ha determinato la morte istantanea della donna. Una lunga sequela di rapine, arrestato un 32enne pregiudicato di giarre. Nel ferragosto scorso aveva rubato una Fiat Punto a Mascali e dal giorno successivo, fino al 31 agosto, aveva messo a segno 5 colpi, seminando il panico nel territorio catanese. Il primo in una stazione di servizio sulla SS 114, il secondo ai danni di un operatore del casello autostradale di Fiumefreddo di Sicilia sulla A18, il terzo fallito per l'inaspettata reazione della vittima, in una stazione di servizio di Fiumefreddo. Gli ultimi due ai danni di una tabaccheria e di una farmacia di Mascali. Le indagini dei carabinieri hanno permesso ora di risalire ad Andrea Fazio, 32 anni, pregiudicato di giarre, nei confronti del quale la procura distrettuale della Repubblica di Catania ha richiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare della custodia in carcere, emesso dal GIP del Tribunale Etneo. Il 32enne, in ogni caso, si trovava già rinchiuso nel carcere di Caltagirone dopo essere stato arrestato in flagranza il 31 agosto dai carabinieri di Giarre per rapina consumata e tentata, resistenza pubblico ufficiale e ricettazione dopo un assalto ai danni di una tabaccheria di Corso Messina a Mascali e al termine di un rocambolesco inseguimento, prima in auto e poi a piedi. Le indagini, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività colpite, hanno permesso di capire che il ladro era lui e di ricostruire il suo modus operandi. Fazio agiva sempre da solo, a tutte le ore del giorno e della notte, armato di una pistola semi-automatica e di un grosso coltello con cui minacciava di morte le vittime qualora non gli avessero consegnato il denaro. Vittime che agli inquirenti hanno fornito elementi utili alla sua identificazione. All'interno dell'auto i militari hanno trovato anche le due armi, la mascherina chirurgica e gli occhiali da sole usati nel corso delle rapine e 902 euro, nonché sigarette, frutto dell'ultimo assalto del 31 agosto. E tentarono di rapinare un commerciante. La polizia di Stato di Caltanissetta ha arrestato quattro persone, di cui tre minorenne. Armati di pistole e coltello entrano in un'attività commerciale nel centro di Caltanissetta col volto travisato. Intimando al titolare e ad un'altra vittima di consegnare il denaro, solo la resistenza del proprietario del negozio di oggettistica ha fatto desistere i malviventi che si sono dati alla fuga. La tentata rapina risale a settembre e quattro responsabili, tre minorenni e maggiorenne, sono stati consegnati alla giustizia dopo le indagini della squadra mobile che ha eseguito le misure cautelari emesse dalla Procura e dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. Gli investigatori hanno sin da subito acquisito fondamentali elementi per la ricostruzione dell'attentata rapina, esaminando numerose immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, ricostruendo le fasi di preparazione della rapina, quelle dell'esecuzione e la fuga degli autori. Uno dei rapinatori è stato riconosciuto perché ha vestito lo stesso modo del giorno in cui aveva tentato la rapina. Condotto in ufficio, il giovane, dopo una iniziale reticenza in presenza del padre, poi ha ammesso ogni responsabilità e ha collaborato con i poliziotti. Gli investigatori della squadra mobile hanno quindi poi individuato gli altri sospettati quali, anche essi in presenza dei propri genitori, hanno ammesso la responsabilità consegnando la pistola e il coltello utilizzati per compiere il reato. I quattro sono agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, ritorniamo a parlare del caso Cannes che sta facendo parecchio discutere. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha chiesto all'assessore regionale e al dirigente al turismo di adottare la revoca in autotutela di ogni atto potenzialmente produttore di danno e responsabilità. In capo alla regione siciliana è stata aperta un'inchiesta della Procura della Repubblica e dall'assessore al turismo scarpinato. Al momento vige il silenzio. Lo aveva preannunciato qualche giorno fa e adesso arriva la revoca dei provvedimenti in autotutela. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani, con una nota indirizzata all'assessore regionale e al dirigente generale al turismo, allo sport e allo spettacolo, in relazione alla partecipazione della regione alla prossima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes, ha chiesto di adottare la revoca in autotutela di ogni atto potenzialmente produttore di danno e responsabilità in capo alla regione siciliana. Il nodo da sciogliere è conseguente all'accertamento ispettivo svolto dall'Avvocatura generale della regione la non piena correttezza nell'applicazione dell'articolo 63 del Codice degli Appalti, che prevede la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di ingara. Una vicenda su cui anche la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Palermo hanno acquisito alcuni documenti negli uffici dell'assessorato regionale al turismo, assessorato che ha inviato la relazione richiesta al presidente Schifani martedì pomeriggio. Oggetto dell'indagine è proprio il finanziamento da 3,7 milioni di euro alla società lussemburghese Absolute Blue per l'iniziativa Sicily Women and Cinema. Al momento, dall'assessore regionale al turismo Francesco Scarpinato, non ci sono dichiarazioni. L'ultima nota risale a qualche giorno fa, quando ha dichiarato non c'è nessuna anomalia nelle procedure di appalto. Si attendono adesso gli sviluppi di queste inchieste e di una vicenda che ha provocato l'amaro in bocca e un fiume di polemiche per un finanziamento, per molti giudicato, inopportuno. E solo una questione tecnica, sarà gruppo misto Forza Italia, lo dice il leader di Forza Italia in Sicilia, il deputatore regionale Gianfranco Micicchè, dopo la rinuncia alla deroga per il gruppo di Forza Italia 2, di cui ha preso atto stamani l'ufficio di presidenza dell'ARS. Di fatto il gruppo misto si costituisce proprio con l'ingresso dei tre parlamentari, oltre a Micicchè, Michele Mancuso e Nicola D'Agostino. Organizzazione personale restano quelli attuali, aggiunge Micicchè, che rimane alla guida del partito in Sicilia. Ritorniamo a parlare del duplice omicidio di Recalmuto. Il giudice ordina una perizia psichiatrica nei confronti di Salvatore Sedita, che ha confessato l'omicidio dei genitori lo scorso 13 dicembre con 47 colpi di mannaia. Sarà conferita il prossimo 18 gennaio l'incarica lo psichiatra Lorenzo Messina, che dovrà accertare le capacità di intendere e di volere nell'ambito dell'incidente probatorio di Salvatore Sedita, il 34enne che ha ucciso i genitori a Recalmuto lo scorso 13 dicembre. Sia il difensore dell'uomo, l'avvocato Nini Giardina, che quelli dei familiari Giuseppe Contato e Giuseppe Zucchetto potranno partecipare all'incidente probatorio, nominando un consulente e in ogni caso interrogando in aula lo psichiatra incaricato dal giudice. Lo stesso GIP, dopo l'interrogatorio, ha disposto il ricovero dell'indagato nella sezione psichiatrica del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Salvatore Sedita aveva confessato di avere ucciso i genitori Giuseppe Sedita di 66 anni e Rosa Sardo di 62 anni nel loro appartamento con 47 colpi di mannaia. Secondo quanto avrebbe accertato, l'autopsia sarebbe stato preceduto da altre aggressioni e minacce, tanto che la procura di Agrigento gli contesta pure l'accusa di maltrattamenti. Violenze, stalking e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne. Polizia e carabinieri hanno arrestato due uomini, entrambi pregiudicati, uno a Catania e l'altro a Siracusa. Due arresti tra Siracusa e Catania per violenze, stalking e maltrattamenti nei confronti delle ex compagne. La polizia è intervenuta a Catania, in via Plebiscito, a seguito della richiesta di intervento da parte di una donna che era stata poco prima aggredita dal proprio ex, che quando è arrivata la volante però si era già allontanato per poi tornare dopo circa un'ora ed entrare mandando in frantumi il vetro di una finestra. Anche in questo caso però l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo della pattuglia. La donna, che già in passato aveva denunciato l'uomo per i continui episodi di violenza nei due anni di convivenza, ha formalizzato un'ulteriore denuncia fornendo ai poliziotti la foto del proprio ex, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali. Iniziate le ricerche è stato trovato sul posto di lavoro. Già destinatario di ammonimento del questore ha confermato tutto ed è stato accompagnato in questura. Il PM ne ha disposto l'arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia ed è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. I carabinieri di Siracusa invece hanno arrestato un pregiudicato di 50 anni che nel 2018 si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti della ex moglie. Deve scontare un anno e quattro mesi di carcere. La pattuglia lo ha rintracciato e condotto nella casa circondariale Cavadonna a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento definitivo. Torniamo a parlare della morte di Andrea Mirabile, il bambino di sei anni palermitano deceduto mentre era in vacanza con i genitori. Ci sono dati incompleti che sono stati raccolti dagli investigatori egiziani che sono arrivati sul tavolo del procuratore di Palermo solo pochi giorni fa. In attesa della traduzione c'è già un'ipotesi sulla causa della morte, avvelenamento da contatto. Sono trascorsi sei mesi dalla tragedia che ha coinvolto in vacanza la famiglia Mirabile di Palermo a Scharmel-Sheik in uno dei resort più esclusivi, dove è morto il piccolo di sei anni Andrea Mirabile. Il 2 luglio scorso, dopo aver accusato insieme con il padron malessere generale, tra cui vomito e febbre, sta sempre prendendo più piede dell'ipotesi dell'avvelenamento da contatto e meno quella dell'intossicazione alimentare. La prima autopsia è stata eseguita in Egitto. Solo qualche giorno fa la relazione del medico legale egiziano è finita sulla scrivania del PM Vittorio Coppola, che è cordia l'inchiesta e che ha incaricato un interprete di tradurla. 200 pagine fitte di dati che dopo la traduzione dall'arabo verranno trasmesse al consulente della procura, che solo allora potrà completare il suo lavoro. Non si può aggiungere ad una conclusione sulle cause del decesso, senza conoscere elementi come il contenuto gastrico in possesso dei sanitari del paese nordafricano. Nelle prossime ore si potranno avere nuovi elementi raccolti anche dagli investigatori egiziani, che saranno comparati con i dati raccolti dalle perizie eseguite a Palermo sul corpiccino di Andrea Mirabile. Cambiamo adesso argomento. Non ci sarà l'atteso taglio delle accise sui carburanti. La decisione del governo è arrivata come una doccia fredda, ma la Premier, Giorgia Meloni, in un video sui social, spiega le ragioni di questa scelta. Intanto i gestori dei distributori di benzina annunciano lo sciopero dalle 19 del 24 gennaio alle 7 del 27 gennaio. Invece di spalmare 10 miliardi, abbiamo deciso di concentrare le risorse su chi ne ha più bisogno. Abbiamo fatto una scelta che rivendico e che è di giustizia sociale. Lo afferma la Premier, Giorgia Meloni, in un video sui social, nel quale spiega perché il governo ha deciso di non tagliare le accise sui carburanti, proprio mentre sugli stessi social spopola un suo video di qualche anno fa nel quale criticava proprio il governo per il mancato taglio delle accise. Per riavviare un taglio delle accise sulla benzina, noi non avremmo potuto confermare il taglio del costo sul lavoro e aumentare il taglio del costo sul lavoro che abbiamo previsto nella manovra finanziaria. Non avremmo potuto aumentare del 50% l'assegno unico per le famiglie per il primo anno di vita del bambino e per i primi tre anni per le famiglie numerose. Non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità di 2 miliardi di euro, come abbiamo fatto. Non avremmo potuto aumentare la platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno da parte dello Stato per calmierare le bollette domestiche. Non avremmo potuto immaginare una decontribuzione per i neoassunti, giovani donne, per settori reti e di cittadinanza. Non avremmo potuto istituire il fondo carrello per aiutare a fare la spesa di fronte all'aumento dei generi di prima necessità per le famiglie più fragili. Non avremmo potuto mettere risorse sul fondo per i crediti di imposta delle piccole e medie imprese. Intanto i gestori dei distributori di benzina annunciano lo sciopero dalle ore 19 del 24 gennaio alle 7 del mattino del 27 con presidio davanti a Montecitorio. Lo annunciano le organizzazioni FaiB, Feigica e FIGISC. Il governo aumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui gestori che diventano i destinatari di insulti da parte di automobilisti esasperati, scrivono le organizzazioni dei gestori che affermano di volere porre fine a questa ondata di fango contro onesti lavoratori. Lo sciopero dei benzinai è un legittimo diritto, il lapidario commento del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Ben ritrovati per la seconda parte del nostro telegiornale. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il mortale avvenuto oggi sulla SS 117 in territorio di Mazzarrino. La vittima sarebbe una donna di 40 anni, originaria di Vittoria, ma residente ad Acate. Maggiori informazioni ve li daremo nel corso delle nostre edizioni. Intanto andiamo avanti. Il cambiamento climatico rende sempre più difficile trovare una bianca coltre di neve. Poi c'è anche l'aumento dei costi. Noi siamo andati sull'Etna per cercare di sapere se c'è un'offerta turistica sul posto Lucio Di Mauro. Ci troviamo a Rifugio Sapienza, alle mie spalle, sull'Etna. Arriva o non arriva, sembra sfogliare una margherita. Per gli amanti dello sport invernale, appunto, sull'Etna, si aspetta una perturbazione per regalare al vulcano il suo aspetto naturale, ovvero invernale. Le temperature di questi giorni si distinguono per valori più vicini all'autunno che all'inverno. Il paesaggio è quello che è, bello, abbastanza. Neve, tutto quanto, fortunatamente abbiamo trovato un po' di neve. Si viene qui per la neve o per il vulcano? In se stesso, la lava, eccetera. Per la neve di più. Ci possiamo divertire un poco. Vulcano. Vederlo dall'alto, cioè da giù, vederlo dall'alto, bianco è bellissimo. Io sono molto compiaciuto di essere qui, quindi mi trovo a 2000 metri per fare un'esplorazione e camminare a ridosso dei crateri. Non ancora ha formato quell'accumulo minimo che costituisce il fondo su cui dovrà depositarsi la coltre nevosa che servirà per le piste. Mancando la neve, non manca la stagione infernale con i turisti che approfittano dalla neve per fare gli esporti infernali. Questi mancano, purtroppo, quest'anno. C'è una crisi? No, assolutamente no. Fortunatamente anche in bassa stagione abbiamo un incremento generale. C'è un calo anche di turismo, un calo anche vostro come vendita? Sì, c'è un calo, però diciamo per il periodo natalizio c'è stato un po' di gente in giro. Ora, chiaramente, è un periodo che fino a, diciamo, a marzo c'è poca gente, tranne sabato e domenica quando c'è un po' di neve. Il periodo che è maggiore di neve è il periodo di gennaio-febbraio, però anche a causa degli effetti climatici si sta riducendo sempre sempre di più. Chi viene a visitare l'Etna? Vengono a tutte le parti del mondo per ammirare maggiormente la bellezza del nostro cratere, dell'Etna. Dopo le lamentere delle mamme ai nostri microfoni sui disservizi dello scuolabus due giorni fa per la soppressione di quattro linee, tutto tace dal comune di Modica. Tutto tace dal comune di Modica, nonostante il malcontento dei genitori, nonostante un servizio a pagamento che non soddisfa pienamente le esigenze delle famiglie e dei bambini, in molti il ritardo al suono della campanella di inizio dell'orario scolastico. Dopo le lamentele delle mamme ai nostri microfoni sui disservizi dello scuolabus due giorni fa per la soppressione di quattro linee del servizio e la richiesta di chiarimenti sul riordino, al momento non ci sono nuove comunicazioni. I bambini che usufruivano delle linee soppresse adesso si recano a scuola attraverso i mezzi che percorrono i tragitti delle altre linee, con tempi e distanze più lunghe, anche se le scuole pare stiano venendo incontro ad eventuali ritardi. Al centro delle lamentele delle mamme anche la sospensione delle uscite didattiche e dei vari servizi scuolabus già concordati per le palestre. Mamme che attendono dei chiarimenti dagli uffici comunali con la speranza che tutto ritorni alla normalità. Cominceranno domani su iniziativa dell'assessorato comunale lavori pubblici, lavori di messa in sicurezza dell'immobile di via Corridoio Stella nel quartiere San Giacomo, nel centro storico di Caltagirone, crollato a seguito del terremoto dello scorso 8 dicembre. Gli interventi sono effettuati dal Comune per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza, spiegano il sindaco Fabio Rocuzzo e l'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Paolo Crispino. E far sì che le tre famiglie che vivono in case vicine a quelle crollate ed evacuate dopo il cedimento tornino presto nelle proprie abitazioni. Infatti queste ultime, ospitate in queste due settimane in un albergo cittadino spese del Comune, la terza da alcuni parenti, potranno a breve ritornare nelle proprie dimore. Le mamme ragusane che si sono organizzate in gruppo per chiedere la riapertura di pediatria all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa non mollano la presa. Purtroppo dall'ASP non abbiamo ancora ricevuto risposte certe, ma non disperiamo. hanno annunciato un altro bando, comunque è un segnale di attenzione e abbiamo già in programma la richiesta di un incontro proprio con i vertici in questione per vederci chiaro, affermano in una nota. Ospichiamo che si possa arrivare a raggiungere quella meta da tutti ambita che serve solo a garantire un servizio all'altezza della situazione a tutti i nostri bambini. Parliamo adesso di Covid-19. Il bollettino settimanale della Regione parla di contagi e ospedalizzazioni in lieve aumento. Nella settimana dal 2 all'8 gennaio in Sicilia si è assistito a un lieve incremento delle nuove infezioni da Covid in linea con la tendenza nazionale. I nuovi positivi sono stati 11.284 più 3,47% rispetto alla settimana precedente. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Messina. La fascia di età maggiormente a rischio è quella dai 70 anni agli over 90. Questi i dati diffusi nell'ultimo bollettino settimanale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati con positività concomitante da Covid. Più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento è risultata non vaccinata. A proposito di vaccini, in Sicilia, alla data del 10 gennaio 2023, sono state somministrate 10.712.026 dosi, di cui 3.973.548 prime dosi, il 37,09%, e 3.791.502 seconde dosi, il 35,39%. L'epidemia rimane in una fase delicata per cui le autorità sottolineano l'importanza del rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, quando richiesto aereazione dei locali, igiene delle mani ed evitare situazioni di assembramento. Parliamo adesso di un evento che farebbe pensare ad un caso anti-canne, il Golden Globe per la migliore mini-serie, ha i colori e il profumo della Sicilia, del White Lotus ambientato tra Taormina, noto Cefalù e Palermo, fra ville affrescate, stradine pittoresche con giri in vespa, degustazioni nei vigneti e feste lussuriose e un'esaltazione della Sicilia. Firmata da Mike White, si è giudicata a due premi, un mix inedito di comicità, drammaticità e un pizzico di giallo. E con questa notizia è tutto, il TG termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.